Grande successo lo scorso lunedì all'auditorium Benedetto XIII di Camerino per lo spettacolo teatrale Pur di Far Musica, che ha visto come mattatori il popolare musicista e showman Paolo Belli. Scritto dallo stesso Belli insieme al regista Alberto Di Risio, lo spettacolo vede la partecipazione di una swing band formata da sette musicisti che, accompagnando le canzoni con arrangiamenti scoppiettanti, vi aggiungono inaspettate doti recitative. Il palco è una sala dove alcuni musicisti sono in ritardo per le prove, così il percussionista Peppe si offre di dare una mano proponendo altri musicisti di sua fidata conoscenza, cioè un chitarrista sordo caratterizzato da un'unica espressione impenetrabile, soprannominato il gelido e quattro gemelli sudamericani che non possono suonare contemporaneamente per dissapori familiari. Questo è lo spunto su cui si regge in maniera scorrevole e gradevolissima l'intero tessuto narrativo della storia. In un misto di momenti musicali puri in cui è protagonista l'esecuzione riarrangiata di brani tratti dal repertorio di canzoni dell'artista emiliano e di classici della tradizione italiana e sudamericana, con momenti di esilaranti battute e dialoghi al limite del surreale, il tempo scorre veloce senza mai un attimo in cui potersi e volersi distrarre da quello che accade sul palco e fuori. Presente in sala anche il rettore Unicam, Claudio Pettinari, che ha fortemente voluto ospitare questo spettacolo per continuare ad offrire agli studenti e dalla cittadinanza momenti di svago e aggregazione, aspetto importante e da non trascurare nella vita universitaria.